sono andati senti un urlo sordo per l'altro gli aveva detto se venivano di sabato gli accompagno era attaccato e chiuso è aperto sotterralo eri così siamo a posto così non lo perdiamo se non la metti lì guarda loro la mettevano in quel buco della rossi ma lì c'è un po' di energia quando l'ultima riva fai il mozzo da chiudere sei a sicuro che non usciamo da qua la piccata bisogna togliere la dinamica se cade giù lo sportello e ricade la neve non usciamo più faccio perplese non ci credete è che c'è una grotta lì sotto dite la verità io non mi ricorderò ma le chiavi sono lì dai bene Sì